Siamo nel backstage... Dopo quanti anni? Magico Molle dopo un canto Tanti, tanti siamo sempre qui Allora, esatto, noi abbiamo cominciato a lavorare insieme che eravamo nel 2006, 2005 Era un bambino Era un bambino e adesso siamo ancora qua a fare feste L'ultima data fatta all'Astrolabio 2200 Che era pienissimo Ha il suo altro fino alla fine C'è la risa e Cristiana Marchio! C'è la risa Buonasera Barba Vai con la piccola C'è qualcuno che alza le mani? C'è la risa 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 Applausi per Cristiana Marchio! C'è la risa C'è la risa